Oltre all'intitolazione delle strade ancora senza un nome, che si trovano nel quartiere di Lucera II e di Portafoggia, anche in altre zone della città si ravvede l'urgenza di provvedere ad attribuire un toponimo ad alcuni tratti viari senza nome. Verranno perciò intitolate le strade prive di denominazioni a personaggi meritevoli di memoria storica che si sono distinti per particolari meriti. Lo slargo adiacente alla parrocchia Santa Maria delle Grazie diventerà piazzetta Don Pasquale Gelormino. Lo slargo tra via Torretta e via San Francesco Antonio Fasani si intitolerà piazzetta Monsignor Giuseppe Rossetti, parroco nato a Volturino nel 1906 e morto a Lucera nel 1979. Il tratto di strada da via Vincenzo Scarano, via Luca della Robbia, che conduce a viale Michelangelo, diventerà via Domenico Tutolo, ciclista professionista nato a Lucera nel 1901. La seconda traversa a destra di via Vittorio Veneto, provenendo da Piazza del Popolo, compresa tra via Ferrante e via Di Pierno, sarà via Saverio Barbarisi, patriota nato a Lucera nel 1786. Lo slargo tra via Aldomoro, via Fiume e via Raffaele De Cesare diventerà via Paul Harris, fondatore del Rotary International. Lo slargo ubicato in fondo a viale Ferrovia, adibito a parcheggio per camperisti, sarà a piazza Giuseppe Papa, sindaco di Lucera e consigliere regionale, nato a Motta Montecorvino nel 1920 e morto a Lucera nel 2009.